Siracusa controlli nei locali pubblici denunciato il gestore del locale per aver organizzato una senata danzante non autorizzata. A seguito di mirati servizi disposti dal questore Benedetto Sanna, gli agenti della squadra amministrativa della questura di Siracusa, diretto dal dirigente Filippo Calì, insieme ai colleghi del commissariato di Prioro, hanno denunciato il titolare di un esercizio pubblico ubicato nella zona della Borgate di Siracusa per aver organizzato una senata danzante senza le previste prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica. L'attività info-investigativa del personale della squadra amministrativa ha fatto emergere che il suddetto titolare non è nuovo a senate simile poiché sui social network sono state trovate delle locandine che pubblicizzavano gli eventi musicali e o danzanti. Il dirigente della divisione PAS tiene a evidenziare che senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico aperto o esposto al pubblico feste da ballo né altri simili spettacoli o trattenimenti che l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura del luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscita è pienamente adatta a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio, prescrizione fondamentale a tutela dell'incolumità pubblica. Inoltre è obbligatoria una perizia fonometrica finalizzata a stabilire il volume massimo della musica all'interno del locale e il suo impatto verso l'esterno. A questo si aggiunga l'apposita richiesta autorizzativa sia se trattasi di evento spettacolo a carattere temporaneo o permanente al Comune pena le emissioni di sanzioni amministrative e o penali.